Collegamenti ipertestuali L'area di descrizione di ogni traccia mostra il dettaglio degli strumenti e una serie di collegamenti in verde, che danno accesso alle varie categorie. Facendo clic sui collegamenti, si aggiorna la ricerca con tutti i brani di quella specifica categoria. Si aggiornerà anche il box della ricerca semplice, per evidenziare la categoria scelta. Ognuno dei collegamenti in verde contenuti nel campo di descrizione, genere, mood, tempo o energy, ti farà accedere direttamente ai contenuti selezionati. Questi collegamenti sono disponibili nell'area descrizione di ogni singolo brano. Con Indietro a nulla puoi tornare al punto precedente.